Dobbiamo prestare la massima attenzione perché ci sono tante persone da solo in casa, perché è un periodo di vacanze e quindi ci sono persone anziane che sono da solo in casa e sono più facilmente vittime dei truffatori e anche sui furti dobbiamo prestare la massima attenzione. Questo l'appello lanciato oggi dal questore di Trieste Pietro Stuni riguardo furti e truffe che troppe volte hanno visto vittime le persone più fragili della cittadinanza. Il messaggio è ovviamente esteso a tutta la platea, ma in particolar modo alle persone anziane o a quelle sole che complici le vacanze estive possono cadere più facilmente nella rete di ladri o truffatori. Quando si è soli si è deboli, quindi ecco perché dobbiamo fare rete e dobbiamo stare insieme. Lo dico anche alle parrocchie, alle associazioni, bisogna spiegarle queste cose, perché questi truffatori poi trovano metodi sempre più intelligenti per arrivare a queste persone. Quindi noi dobbiamo insistere su queste campagne informative. Polizie e carabinieri in merito sono stati ultimamente artefici di importanti operazioni, a contrasto della criminalità organizzata dedita a furti in appartamento con l'individuazione di numerosi responsabili di atti commessi la scorsa estate. Abbiamo condotto recentemente un'operazione insieme ai colleghi dell'arma dei carabinieri e abbiamo scoperto gli autori di diversi furti che sono stati consumati la scorsa estate. Sono 23, siamo riusciti ad addebitargli, però non escludiamo di attribuirne altri. Assieme ad agenti e dirigenti di polizia, la campagna di sensibilizzazione ha fatto tappa oggi a Barcola, luogo che nei mesi caldi è frequentatissimo e proprio per questo area da tenere sotto controllo. Oggi siamo a Barcola, che è un punto nel periodo estivo di ritrovo di tantissima gente e speriamo di riuscire a fare una sensibilizzazione efficace. Il numero delle truffe rispetto allo scorso anno è più o meno l'andamento e non abbiamo grossi balsi in avanti per fortuna, però comunque continuano ad esserci queste situazioni.